salve a tutti anime colorate benvenuti in questo nuovo video sono sincero lunedì non avevo idee da mettere quando dico lunedì parlo di ieri per me 10 gennaio quindi la prima cosa che vi propongo se vi va sotto questo video è quella di continuare a fare proposte perché il canale si un po vive grazie alle mie idee ma è fatto anche direi soprattutto da persone che lo seguono non credo che perché mi sta ascoltando sarebbe edificante insomma sapere di parlare da solo in tutti i sensi e non solo davanti alla telecamera vi ricordo che chi non è iscritto può approfittare per iscriversi al canale regalare un grazie da 10 euro un abbonamento da 4 euro a 99 o semplicemente cliccare sulla pubblicità in questo modo aiuterete il mio canale è già da un paio di giorni che penso all'argomento non so ancora che titolo metterò ma potreste pensare che io debba rimproverare qualcuno di voi no non è così le persone che hanno questo atteggiamento non fanno parte del canale non al momento perlomeno e dubito che se si riconoscano abbiano l'ardire di di commentare per scusarsi anche se sarebbe una cosa molto bella e matura e sarebbero delle scuse che io accetterei con il cuore veramente ma sta di fatto che la necessità di comunicare tramite social credo che tutti ormai abbiamo facebook e tutti seguiamo un qualche gruppo pagina di qualcosa che ci piace credo che ci stia facendo perdere l'empatia credo credo forse mi ripeto va bene sto pensando al fatto che l'inquadratura non è ben sistemata la protezione dello schermo ci porta a pensare che le nostre azioni non avranno conseguenze sono almeno due o tre occasioni che io mi sento dire ehi ma guarda che ti sto rispondendo in modo educato ehi ma guarda che siamo in due ad averti fatto notare una stessa cosa quindi se io penso che gli unicorni siano creature fantastiche e a te fanno schifo il pensiero critico non è ben visto è questo che veramente vogliamo comunicare con i social è veramente questo il messaggio che portiamo vogliamo portare di bullismo di prevaricazione io qui dovrò mettere qualche bip perché io credo che a volte le parolacce le hanno un'idea se io mi comporto da sto c***o è giusto è vero è inclusivo che adesso piace tanto questa parola che mi si faccia notare che io in quel momento ho fatto del male a quella persona perché non esiste soltanto il male fisico ricordate che a volte le parole possono menare fendenti come coltelli è anche vero che a volte si ha la sensazione che più che trattare normalmente perché effettivamente io ho fatto del male si tratti semplicemente di quello schermo che stavo dicendo prima cioè io una risposta del genere non la darei mai a nessuno disabile o meno che sia però siccome c'è il mio bello schermino che mi protegge dallo sguardo di una persona dalla voce di una persona che magari mi farebbe capire che non mi sta aggredendo affatto dal modo di muoversi per chi può da un sacco di altre cose perché davvero io devo molto al virtuale io devo perfino alla ricerca della mia ultima psicologa al virtuale però credo onestamente che si stiano perdendo di vista tante cose si dice che non sono gli altri a cambiare dobbiamo cambiare noi stessi questo mi è stato detto io sono un po' perplesso riguardo a questa affermazione vorrei riflettere insieme a voi perché se è vero che il cambiamento deve partire da noi però è anche vero nello stesso tempo che ciascuno deve curare il proprio mentre a volte sembra che però sembra che davvero quando si interagisce con gli altri il mondo chieda continuamente di cambiare ma io sia veramente l'unica persona in grado di mettersi in discussione questo fa parte di una discussione mi ripeto di nuovo che ho avuto ieri al telefono costruttiva dove però onestamente ho ho intravisto una punta di disacenza trattasi di persona più grande di me trattasi di persona con più competenze di mie bla bla però sono dell'idea che se si deve insegnare qualcosa a qualcuno bisogna anche essere in grado di insegnare perché se ora non era un insegnante l'inglese ma facciamo finta che si tratti di un insegnante l'inglese che è la prima cosa che mi è venuta in mente quel che io dico se vuoi trasmettere l'amore per qualcosa non basta che tu abbia questa pronuncia perfetta che tu abbia il perfetto che mette la lingua nel modo perfetto sotto i denti sicuramente è utile sicuramente è utile il viaggetto in inghilterra prima di insegnare a fare l'insegnante scusate di iniziare a fare l'insegnante tutto quello che volete ma se non siamo in primis persone empatiche sensibili in grado di connetterci con l'altro senza ovviamente dimenticare noi stessi tutti gli anni di studio del mondo non servono assolutamente a niente e io in prima persona vi dico che sono voglio essere in una fase di crescita continua io non mi sento arrivato però nemmeno allo stesso tempo credo di non avere imparato nulla credo di avere una continua possibilità di imparare quindi vorrei cortesemente che questo video fosse un'occasione di confronto con tutti voi e che mi diciate cosa ne pensate e soprattutto se per sostenere questo vostro pensiero fate qualcosa tutti i giorni se praticate gentilezza per cambiare il mondo secondo me non servono grandi cose io non lo so se sto cambiando il mondo con questi video non lo so se sto cambiando la mentalità con questi video però quando penso di sentirmi un po' scoraggiato perché faccio 50 70 visualizzazioni e mi fermo preferisco prendermi del tempo piuttosto che smettere perché domani potrebbe essere visto da qualcuno che ha bisogno di sentire queste parole se io parlo da solo questi video non servono a niente il canale è fatto da voi è fatto da te che stai guardando in questo momento e magari nemmeno sai chi sono scrivete parlate esprimetevi proponete discutiamo confrontiamoci lo so che magari i commenti di youtube non sono un terreno ideale è una comunicazione che può apparire limitata per alcuni di voi però ci proviamo ci proviamo vorrei provarci insieme a voi vorrei veramente cambiare questa comunicazione social vedendo se davvero è possibile partire da me cosa che ci provo ogni giorno stando attento al punto e alla virgola ma ultimamente sembra che tutto ciò non sia inutile non sia utile che io ammio sempre addosso l'etichetta dell'arrogante del permaloso eccetera non sempre quel che dicono gli altri è vero forse quello che diciamo più a noi stessi dopo esserci autoanalizzati andrebbe ascoltato di più senza però perdere mai di vista la nostra autostima grazie a tutti spero che questo video vi sia piaciuto vi aspetto nei commenti e ci vediamo la prossima volta ciao ps speriamo con un'inquadratura migliore ma avevo voglia di fare un video ciao